Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 pare attenzione per nebbia a banchi segnalata nel tratto tra Roncobilaccio e Aglio. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione sud. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del vivio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!